Abbiamo in cantiere per giugno l'apertura di un polo sociale, quindi di una struttura dedicata a tutte quelle che sono le nostre attività per le fasce più vulnerabili della popolazione. Un punto d'ascolto e aiuto per le famiglie in difficoltà. Sono circa 5.300 i nuclei familiari padovani che nell'ultimo anno si sono recati mensilmente alla Croce Rossa per ricevere pasti. Più di mille invece le richieste di cure mediche e odontoiatriche. Per questo motivo il Comitato Provinciale Padovano ha deciso di aprire una nuova struttura che fornisce servizi ai più bisognosi. Struttura che verrà inaugurata a giugno, poco lontano dalla sede principale in via della Croce Rossa a Padova. Oltre agli interventi di prima emergenza, quasi 12.500 quelli effettuati nel 2014, il Comitato Padovano con i suoi 1.700 volontari e 239 arrivi sta cercando di intervenire nel sostegno alle dipendenze. Oggi meno visibili, spesso nascoste tra le mura domestiche. Dipendenze nascoste nelle famiglie del nostro territorio e sono dipendenze da alcol, spesso gravi e spesso in grado di rovinare intere famiglie. Sono dipendenze da gioco d'azzardo, da internet, anche fra i giovanissimi. Quindi una problematicità molto articolata che richiede interventi specifici, ma soprattutto richiede di poter dare a queste persone, a queste famiglie, la possibilità di chiedere aiuto. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima